La viola completa il Tour de Force settimanale, vincendo per la terza volta in stagione sul campo universitario del CUS, questa volta limitando al massimo il Castanea di Messina. Prova dominante sempre sul pezzo per i reggini, anche perché pesa l'assenza del tiratore in citti per i locali. Primissimi minuti di equilibrio, ma presto Reggio vola sul più 6 con Aguzzoli. Tirtisnik firma il primo vantaggio in doppia e già dal primo quarto c'è spazio per Contè. 14-30 al primo mini intervello. Il secondo quarto lo vince Castanea con Ciacchire sugli scudi. Il vantaggio generale però è sempre per i reggini che arrivano fino al più 17. Il ritorno, Gianno Viola arriva sul meno 7 con il canestro di Bellomo. Il ritorno di Binelli e Soci firma il 34-49 a fine secondo quarto. Castanea prova a far salire l'intensità difensiva nel terzo quarto, ma mai energy, però continua a dominare e il vantaggio diventa gigante. Tanti minuti per il play Regino Tommaso Russo, la gara in discesa e mai in discussione anche nell'ultimo periodo. Tanti errori e clima rilassato, termina 73-90. Gli ospiti si preparano così al big match di domenica prossima al Palacalafiore da giocarsi contro la forte Virtus Ragusa. Al Castanea non bastano i 27 punti per Giordano. Ciacchirra anche perché coach Cigarini può contare sullo schieramento dei migliori che lo ricambiano con una pioggia di doppie.